Il primo accessorio che vi voglio far vedere sono questi, che sono degli occhiali che ho preso al mercato di Camden Town, agli stables, per 5 pound. Ora Mr. Marito sostiene che io sembri Willy Wonka, ora che mi guardo nell'anteprima può anche essere, però li volevo tondi, grandi e similità tarugati e per 5 pound ho deciso che avrei corso il rischio di sembrare Willy Wonka perché mi piacciono moltissimo. Sempre agli Spitafields Market, domenica mattina, ho preso per 3 pound mi sembra, 2 o 3 pound quest'anello, M sta per Mr. Marito, chiaramente è il nome di Mr. Marito, che è fatto con le pedine dello Scarabeo Vintage anni 70, montate chiaramente sull'anellino regolabile, però l'ho trovato carinissimo. Tra l'altro c'erano anche gli orecchini, ma non c'erano lettere che richiamassero qualcosa, cioè non c'erano né le mie né quelle di Mr. Marito e quindi... Da Topshop, dove mi sarei portata via l'intera area accessori, sono stata piuttosto morigerata. Ho comprato questi, no scusate ma io a questi non ho saputo resistere, sono in plexi, sono super leggeri, hanno tra l'altro la chiusura a perno, non l'anellino, dietro sono bianchi e davanti sono di questo bellissimo fucsia e costavano 8 pound e 50, diciamo che questi non erano proprio economicissimi, però mi piacevano da morire. Che ve lo dico fa? Poi, sempre della linea Freedom at Topshop, ho comprato questi, che sono in metallo rosato, lì non si vede tanto, e si piegano, li trovavo molto carini, e questi li ho pagati 7,50 e questi invece hanno la monachella, e anche questi sono sobri, non sono molto grandi, no no. E poi c'era vicino alla cassa, chiaro, l'offerta, c'erano questi orecchini con la monachella, anche in questo caso, fermatevi, con la pietra nera, i brillocchini intorno e queste pietre gialle, che assomigliano molto a quello di una collana di H&M che ho preso io, e che quindi potrebbero diventare una parure, a 2,50 pound, il prezzo originario era 12,50 e quindi non ho, c'ho proprio, non ci ho pensato neanche mezzo secondo e li ho portati a casa con me. Quindi da Topshop, tre orecchini, sempre, sempre su Oxford Street c'è Dorothy Perkins, e da Dorothy Perkins, anche lì mi sarei portata via il mondo, ma ho preso solo accessori, in particolare, in saldo, ho preso questo. Aspettate, che non mi si sia già... no, eccolo qua. Che è molto semplice, ha tre fili, con tre pallette di tre dimensioni diverse, e questa qui, che veniva originariamente 10 pound, l'ho pagata 2 pound, di Ribbon & Usher, semplice, molto liscia, è però un passepartout a 2 pound. Poi, invece, non proprio economicissima, sì, esatto, ho preso questa, che è una collana, ma dai, avreste mai detto che era una collana? Che ha il cordino blu e poi ha questo gioco di piastrine, sono piatte, dorate e blu, che rimane piuttosto corto, e questo costava 15 pound, lo vedete qua sopra. Dopodiché c'era il prendi due, tipo, se prendete due cose, la seconda, quella che costa meno, la pagate la metà. Tutte queste cose dai ragionieri, no? Allora, ho preso questi, che sono un set, che io chiaramente poi smezzerò, dividerò in mille parti, vediamo se riesco ad aprirlo, intanto, sì. Allora, all'interno ha... eccoci qua. All'interno c'era questo, con l'elastico e le pietruzzine, che vabbè, poi c'era questo che mi piaceva un sacco, che è con le pallotte, è sempre in color rame, bronzo, eh, non è giallo giallo. Poi c'è, sempre elasticizzato e sempre nello stesso tono di rame, questo con le borchie, poi c'erano due rigidi invece quadrati, per darvi l'idea, e poi c'era questo qua grosso, sempre elastico, con questa maglia, maglia grossa, che lì voi vedete sempre giallo, ma che in realtà è tendente al rosso, è tipo il colore dell'oro rosa, per darvi così. Questo qua costava 12,50, ma l'ho pagato 6,25, perché c'era la promozione, la famosa promozione. Dopodiché, girovagando per Carnaby Street, sono incappata in Holly & Nick, che è un negozietto carinissimo, in cui c'era una ragazza folle, una mezza canadese cresciuta in Francia, una cosa del genere, simpaticissima, e avevano un sacco di bella roba, e anche qui c'erano delle bellissime promozioni, perché per me le promozioni non sono buonissime, sono bellissime. Prima promozione, cioè primo acquisto che ho fatto è questo, che è questo anello con l'elastichino, che quindi si adatta al dito perfettamente, che mi piaceva tanto, lo vedo carino e molto comodo, e l'ho pagato 2 pound. Era ridotto, non sono andata a vedere di quanto, vedete? Il prezzo subito prima era 5, se volete facciamo il gioco delle carte, guardiamo se sotto c'era l'altro prezzo, ma non so, forse no, eh? Però diciamo che già da 5 a 2 l'ho pagato la metà. Non so, vi dico se c'era un altro prezzo, eh? Ma non credo. No, non c'era l'altro prezzo. No, quindi da 5 a 2. Poi ho preso questo, che mi è piaciuta subito. Questa è dorata, eccola qui. Anche in questo caso io l'ho pagata 2 pound, il prezzo subito prima, che però recitava già ridotto, reduced, era 3 pound e 5. 50, vabbè, insomma, però era già ridotto, quindi bisognerebbe andare a vedere da cosa, ma insomma uguale. Ed è questa, con questa piastrina, che mi piace tanto per il messaggio che c'è dentro, cioè io, il mister marito mi prende in giro, ma vabbè. Dice Dream e dietro Live the life you have imagined. Non è molto lunga, rimane piuttosto corta, rimane proprio una piastrina, me la sto mettendo. Mi piaceva tanto, come amuleto proprio. 2 pound. E poi per 4 pound, anche in questo caso già ridotta, ma non so se sotto c'era, no, sotto non vedo altri prezzi. Questa che invece è leggermente più lunga, non vedete perché srotolandola, eccola qui. In questo caso invece in color argento, con questa, che io, poi ditemi voi se io li ho interpretati giusti, non lo so, allora, prima gli ho detto è quella del rabdomante. Io veramente li avevo ipotizzati come, sapete, gli assetti del tacchino, quelli che gli americani poi spezzano per esprimere il desiderio. Non lo so, mi sono fissata che erano quelli e quindi li ho comprati convinta che fossero quelli. Per favore, lasciatemi vivere nell'illusione che siano quelli, perché mi piace tantissimo l'idea. E l'ho pagata 4 pound. E questi qua diciamo che mi hanno dato proprio soddisfazione, perché sono molto particolari un po'. E con questo si chiude anche la sezione accessori. Ora alla sezione che so già piacerà di più a tutti, che è quella degli acquisti misti, fritto misto, con una buona categoria di acquisti farlocchi. Il primo che farlocco non è, è questa. Questa è una borsa, una make up bag tipo, in pelle vera, lavorata a mano da questa designer che si chiama, c'è anche il sito, magari poi ve lo metto nell'info box, Amica Bags. L'ho preso agli Spita Fields Market e c'era lì la ragazza che le crea. Ce ne erano tantissime, di tantissimi tipi. Questa era in offerta, costava 35 pound, io l'ho pagato 30. Ha la cerniera e dentro c'è l'etichetta Amica Bags made in London, ma vedete è plastificata. Quindi se si aprono i prodotti è sempre facile da pulire e l'ho trovata geniale. Tra l'altro è bella grande perché io ci avevo messo per il viaggio di ritorno tutti gli accessori, tutti i trucchi, ci stava un sacco di roba e in più è proprio pelle, c'è profuma di pelle, è morbida, è bella pratica anche da mettere via e da stipare, ma allo stesso tempo molto capiente. Un ottimo acquisto, decisamente non farlocco. Altro acquisto, che per alcuni può essere farlocco e per altri no, da Harrods in realtà all'aeroporto e non a Knightsbridge, ho preso la cover per l'iPhone nuova, una cover dorata con questo profilo di donna, cagnolino e lampione, firmata Harrods, che a Knightsbridge costava 14,95 e l'ho pagata 13. Vabbè, insomma, il risparmio non è stato grandissimo, ma siccome da Harrods mi si era appena rotta la reflex, non ero proprio nella predisposizione d'animo per spendere dei soldi. Poi in aeroporto c'era lo store, lo store c'era la promozione, venivano un po' meno e mi sono fatta tirare. Acquisto non farlocco. Se vi ricordate, nel video sulla collezione delle palle di neve vi avevo fatto vedere che la palla di Londra era bucata e perdeva liquido. Non la rimpiazzo, nel senso che non butto via l'altra palla, la tengo lì, ma era anche piccolina, mi sono presa la palla grande con tanto di città tutto intorno, con tutti i monumenti intorno e all'interno c'è il Big Ben, il London Eye, il Double Decker e penso sia Buckingham Palace a vederlo da qui. Nevica, nevica parecchio a Londra, vi dirò, nevica. E tra l'altro l'ho pagata 6 pound e quindi vi dirò che tutto sommato non mi è neanche costata cara. Acquisto non farlocco. O forse sì. Breve parentesi culinaria. Vabbè, io sono praticamente una fogna, cioè mangio ovunque, non ho mai problemi. Ho preso della roba da mangiare anche in Inghilterra. Allora, questa l'ho presa per la confezione, perché la confezione in latta con la cabina del telefono era troppo bella e costava... ci sono anche biscotti dentro, se non so, cose che non mi interessano in questo momento, da Mark Spencer e mi sembra che costasse 4 pound e 50, 4,45. Troppo bella. Tra l'altro volevo metterci dentro le bustine di teio, però mi sa che è un po' troppo lunga e profondo. Beh, è troppo bella. Poi ci sono dentro i biscotti, gli Scottish Shortbread, ma io volevo la scatola di questo, quindi vabbè. Biscotti invece li ho comprati. Ho comprati digestive semplici per mia mamma. Questi col cioccolato... questo si è rotto. Per me, sempre da Mark Spencer, i Dark Chocolate Digestives. E poi mi sono comprata queste bombe di burro, che sono i Malted Milk Biscuits. I prezzi non me li ricordo, ragazzi, di questi non ho tenuto gli scontrini. Aspettate che forse sì. E invece sì! Allora, 4,50 come mi ricordavo, e poi ho preso due pacchetti di come da masticare, per la serie proviamole come da masticare straniere, che costavano 70 centesimi l'uno. Costavano più queste dei biscotti, ma questo è un dettaglio. Tra l'altro, questi qua pesano una quintalata. Ma veramente, cioè a portarli in giro tutto il giorno, a un certo punto Massimo voleva buttarli via, mangiarli, regalarli a qualcuno. Non ne poteva più. E poi non si può andare a Londra e non comprare del tè. Io in particolare stavolta l'ho presa da Harrods. No, no, ma ne ho comprato poco di tè. Ho comprato 6 confezioni da 20 bustine, sì. Questa era la classic collection e quindi c'è il Ceylon, l'English Breakfast e l'Ern Grey. 8,50 pound. E questa che aveva il Lemongrass, Moroccan Mint e Rubois. Rubu... non si legge Rubois. Si legge Roybus? Non saprei dirvi. A me ispirava questi due qui. Questo qua l'ho annusato, non è male. Vi farò sapere quando li bevo. 8,50 pound anche questi. Acquisti farlocchi? No! A Londra c'è poi l'M&M's Store. Chi segue i miei video sa che io sono stata a quello di New York, sono stata a quello di Las Vegas. In realtà mi mancherebbe ancora quello di Orlando e mi sembra quello di Dubai e poi li ho fatti tutti e mi piacciono sempre da pazzi. E potevo io non comprare? No. Allora ho preso questi, di cui non vi dico il prezzo perché sono per il mio nipotino, per il suo compleanno. Sono carissimi. Che sono di plastica, quindi ci può sia giocare che mangiarci, che farci tutto quello che vuole. E poi ho preso due tazze per completare la mia collezione. Io a New York avevo trovato delle tazze che poi non avevo più trovato in nessun altro M&M's Store. Ossia questa collezione qui, che sono fantastiche, sono veramente bellissime. Io avevo già quella gialla e quella rossa e quindi ho comprato quella blu e quella verde. Quindi hanno gli interni colorati e queste costavano 9 pound e 95 l'una. Si chiamano Splatter Mug. E li trovo, sono fantastici, a parte che tengono un sacco di roba dentro. Ma poi sono proprio belli. Acquisto farlocco. Eh no, eh no. E veniamo a degli acquisti. Che potrebbero essere? Diciamo, fate rientrare nella categoria dell'acquisto farlocco. Agli Spitafields Market. Io e Mr. Marito abbiamo comprato dei bicchieri. Cioè, possiamo parlare di quanto belli sono? Sono fatti con le vecchie bottigliette di Coca-Cola a cui è stato agganciato la... è stato smussato il vetro. C'è la Coca-Cola, la Diet Coke. Ma ci siamo formati qui? La Corona. Budweiser. Faccio anche il gesto di vera, eh? Capiamoci. E poi, insomma, abbiamo preso anche due d'acqua perché, insomma, ci sembrava brutto che non ci fossero quelli d'acqua. Acquisto farlocco. Può darsi. Questo mi sembra di aver pagato... no. No, non dico niente perché potrei dire delle cavolate. Non me lo ricordo assolutamente. Se per caso se lo ricorda Mr. Marito, vi faccio comparire il prezzo da qualche parte di queste stupenderrime cose. E qui siamo all'acquisto farlocco. Ma il vero acquisto farlocco ve l'ho tenuto per ultimo. A Camden Town, in un negozietto meraviglioso che si chiama Cyber Dog, ho comprato per 6 pound... lo stampo in silicone per fare i ghiacci di Pac-Man e dei fantasmini. Cioè, voi immaginate e bervi una Coca-Cola con i ghiacci di Pac-Man e dei fantasmini. 6 pound. Ve l'ho già detto? 6 pound. E con questo acquisto farlocco si chiude il video con lo shopping di Londra. ho comprato parecchio, ma sono stata abbastanza bravina. Questi sono troppo belli! Io e i fantasmini e Pac-Man vi salutiamo, ci vediamo prestissimo e... buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Grazie a tutti.